Il pubblico ti fischia, te ne freghi o ti arrabbi? Ma è una cosa che ti chiedono tutti, ti chiedono sempre, perché sembra una cosa che faccia male. In realtà, anche nelle prime partite a 15 anni, anche dopo le case a bere a via Armanitaggia, c'era uno signore anziano che ti insultava a priori dal primo minuto al 60, sia che tu facessi bene, sia che tu facessi male. E quindi questa è stata una scuola. Passato quel signore lì, anche 30 mila allo stadio che ti fischiano, ma ti fischiano un attimo, non condivido una decisione. Ti dico, la scuola di sopportare queste cose è quando sei molto giovane, poi quando arrivi in alto queste cose sono cose alle quali non pensi più, non hanno nessun significato, nella partita pensi solo a fare bene, ma...